Buon poveriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono 6 km di coda in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisaregello a causa di un veicolo in avaria. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Fipili, sulla Fipili code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento A1 in direzione Firenze. Segnalato personale su strada allo svincolo di Montopoli-Valdarno in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aureliac ci sono poi rallentamenti prima di Sarzana per lavori in entrambe le direzioni. Infine ricordiamo che oggi Ryanair ha indetto uno sciopero che potrebbe portare alla cancellazione di quasi 60 voli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!